Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti alla giocherina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi eccoci qua quest'oggi per guardare insieme il trailer che è stato pubblicato veramente da pochissimo di Wish. Sarebbe a dire il nuovo film animato della Disney, quindi non parliamo di Pixar, non parliamo di niente ragazzi, parliamo proprio della Disney. E' un film animato che è stato fatto dagli stessi creatori di Frozen se non sbaglio, quindi regà comunque... Cioè io di questo film ne ho sentito parlare, avevo soltanto visto una locandina un po' di tempo fa, quindi io penso che nessuno di noi sapesse di preciso di cosa tratti questo film. E quindi è stato pubblicato questo trailer, sono direi abbastanza curiosa di guardarlo perché appunto più che altro vorrei effettivamente capire di cosa parla questo film animato. A quanto pare sembrerebbe comunque ispirarsi tipo alla stella dei desideri, una roba del genere, infatti comunque il titolo ragazzi Wish che vuol dire desiderio, qualcosa fa intendere. Quindi sembrerebbe appunto fare riferimento a questa benedetta stella dei desideri a cui di solito ci si rivolge, è successo anche in alcuni film animati Disney. Io ad esempio ricordo ragazzi la stella di Pinocchio, ci si rivolge Geppetto appunto per esprimere il proprio desiderio di avere un figlio e bla bla bla, insomma anche in altri film se non erro. Quindi ci dovrebbe essere un qualche collegamento a questa cosa qua. Il trailer dura poco più di due minuti, direi di andarlo a guardare e poi parlarne un po'. 3, 2, 1... Escia! Sono qui, sono qui. Uh, solo un secondo. Riprendo fiato. In un tempo lontano sorgeva Rosas, un magico regno incantato. Fondato da un re con il potere di esaudire i sogni. Tu sei il loro bellissimo e amato re. È vero, sono un bellissimo re. Sono così nervosa che ora esplodo. La mia amica del cuore, apprendista del re. Mi cade la bocca, non mi sanzo la mandibola. Ascia, seguimi. I sogni di Rosas. Il popolo mi affida ogni desiderio e io esaudisco quelli che non mettono a rischio Rosas. Quindi alcuni non verranno mai esauditi? Non alcuni, molti. Tutti però meritano... Io decido che cosa meritano. Ogni stella splende per guidarmi. Io vorrei dar ascolto a quel che mi dirà. Oh, tu ci vizzi con la tua magia. Non sono stato io. Cosa? Ieri ho espresso un desiderio a una stella. E la stella ha risposto. Io parlo, io parlo. Caspita, che voce sua dente. Forse sono pittima di un complotto. Chi mai lo farebbe? Wahoo! Ha-hia! Non ho risposte in merito. Ogni stella splende. C'è un traditore in mezzo a noi. Trovate Asha! È un piccolo cieco. Con porta di mogano grezzo. Oh, bella scoperta, Valentino. Un colpo di chiappa. È iniziata con me. E con me deve finire. Che cosa nascondi? Oh, niente. E nessuno. Che cosa succede qui? Ok, fanciulle. Con quelle ali non si vola, ma con le vostre voci sì! Ah... Ok. Avrete sicuramente notato che non ho emesso un fiato durante la visione del trailer, cosa che invece succede quando vedo qualcosa che mi entusiasma particolarmente. Questa è una cosa che già avevo detto, ragazzi, e vi ho ripetuto diverse volte in altre mie reaction, cioè che solitamente il mio sesto senso non si sbaglia. Nel senso, scusate il gioco di parole, che quando guardo un trailer, solitamente le mie sensazioni non si sbagliano, ok? Quindi è successo diverse volte che ho guardato trailer di film, di giochi, di qualsiasi cosa, che mi hanno suscitato qualcosa dentro. Quindi che mi hanno fatto, appunto, ragazzi, emozionare in qualche modo, che mi hanno stupito in qualche modo. Ed è una cosa che solitamente non riesco a nascondere, perché lo sapete, raga, io sono proprio trasparente. Quindi quando c'è qualcosa che mi entusiasma, wow, cioè del tipo esplodo, no? Implodo, esplodo, cioè comunque si vede quando c'è qualcosa che mi entusiasma. In questo caso, questo film viene pubblicato, appunto, perché dice questo, un film che racchiude cent'anni di magia. Perché, ragazzi? Perché ovviamente il 2023 è il centenario della Disney. Quindi comunque sono passati cent'anni, comunque un anno importante, diciamo così, eccetera, eccetera. Quindi a quanto pare si sono tenuti questo film proprio per festeggiare, diciamo così, tra molte virgolette, questo centenario. Io, per festeggiare il centenario di Disney, ragazzi, mi sarei aspettato un qualcosa che già dal trailer mi entusiasmasse, non poco. Però, devo dirvi sinceramente, questo trailer mi ha comunicato poco e niente, ragazzi, poco e niente. Non so neanche dirvi perché. A parte che, ragazzi, piccola parentesi, io non so se sono stata l'unica a notare che il doppiaggio sembra alquanto pessimo. Passatemi il termine, nel senso che comunque, per esempio, la voce della protagonista mi ha fatto abbastanza cagà. Adesso io non so chi saranno i doppiatori, ovviamente non ne ho la minima idea, ma dal livello, per esempio, dell'espressività della doppiatrice della protagonista, capisco che probabilmente non è una doppiatrice professionista. Probabilmente anche la voce, ragazzi, del re non mi ha convinto fino in fondo. Cioè, sapete che, regà, cioè, noi col doppiaggio stiamo messi bene, no, qua in Italia. È una cosa di cui io mi vanto sempre. Dico sempre che abbiamo fra i migliori doppiatori al mondo, probabilmente. O perlomeno una volta era così, perché se oggigiorno devono dare spazio a doppiatori che non sono tali, tra l'altro, perché va a finire che, per esempio, la doppiatrice della protagonista, magari una di queste, ragazzi, di internet, una figura, come cavolo le possiamo chiamare? Non lo so, cioè, sarà una di questi che sono un po' famosi sui social, e magari per cercare di attirare il più pubblico possibile, pam, li infilano lì. Guarda, te non hai mai fatto doppiaggio? Vabbè, sti cazzi, quanti followers c'è su Instagram? Su TikTok? È una buona occasione, è una buona occasione per te, per far vedere quanto vali, così attiri quanta più gente possibile al cinema, perché tanto, comunque, poi gli devi fare pubblicità al film, ovviamente. Cioè, io mi immagino, ragazzi, un ragionamento del genere, che ovviamente non è proprio così da un lato, ma è così dall'altro, cioè, capite che ve voglio dire? Quindi già sta cosa mi fa storcere tantissimo il naso, doppiaggio pessimo, ragazzi, adesso non dico di tutti i personaggi, ma, boh, non lo so, pure il doppiatore del re non mi ha convinto per niente, sinceramente. Quella della protagonista, men che meno, penso sia il peggiore di quelli che si sentono nel trailer e probabilmente sarà il peggiore del film, mi dispiace dirlo. Per il resto, ragazzi, quindi passando oltre la questione di doppiaggio, che mi ha deluso parecchio, vi dirò sinceramente, sempre perché io ho queste altissime aspettative riguardo i nostri doppiatori, che considero da sempre forse fra i migliori al mondo, vabbè, di nuovo, richiudo la parentesi, quindi, a parte la questione di doppiaggio, c'è qualcosa che non mi ha convinto, ragazzi. C'è qualcosa che non mi ha convinto. Allora, considerate che ho visto tutti gli ultimi film animati da Disney, ragazzi, lo sapete quanto io ami la Disney, e quanto purtroppo negli ultimi anni mi sembra che i film che cacci la Disney mi stiano deludendo sempre di più. Live action, categoria a parte, io sto parlando di film animati, ok? Ho guardato Encanto, per esempio, che credo sia stato proprio l'ultimo film animato fatto uscire dalla Disney. Rettifico, ragazzi, mi sono ricordata dopo che l'ultimo film animato pubblicato dalla Disney è stato Strange World. Ebbene, ho guardato anche quello, e purtroppo mi ha deluso anche quello, ragazzi. Non mi è piaciuto per niente. Che, vi dirò sinceramente, ragazzi, non mi è piaciuto per niente. Per quanto riguarda il resto, boh, non lo so. Non so cosa è successo alla Disney negli ultimi tempi. Sinceramente, questo film non fa che confermarmi questa brutta sensazione, ragazzi. Cioè, perlomeno il trailer di questo film, scusatemi. Non mi ha convinto, non mi ha trasmesso nulla. Poi ci ficcano sempre a forza queste cose che dovrebbero forse far ridere, che probabilmente faranno ridere i bambini, sicuramente. Ma siccome sappiamo, ragazzi, che oramai comunque anche il mondo dei film animati è sempre più aperto anche agli adulti, non lo so. Cioè, pure le questioni che dovrebbero far ridere, tipo la capretta che gli hanno... che tutto st'animale carino e poi gli hanno messo sto vocione. Cioè, una questione, una cosa che dovrebbe far ridere, effettivamente. Cioè, altri aspetti pseudo-comici che sono stati messi in questo trailer non li ho trovati per niente comici. Poi lo sapete, purtroppo, ragazzi, è una persona che difficilmente ride. Però, comunque apprezzo la comicità fatta bene, ok? E gli spunti comici di questo trailer non mi hanno fatto ridere per niente, non mi hanno divertito per niente. Ma pure a livello, regà, di... emozioni, di coinvolgimento, non mi ha coinvolto per niente, non c'è stato niente che mi abbia coinvolto. Poi ci hanno ficcato, ah sì, guarda, la stella, come la possiamo fare una stella? Ah, facciamola! Bella cicciosa, paffuta, ciccetta, no? Che c'ha quest'aspetto super tenero, no? Super kawaii, come si dice oggi. E così, oddio, troppo bella. Non lo so, non so, ragazzi. Poi, magari, cioè, guardando il film, la storia viene sviscerata molto meglio, ci saranno dei retroscena che ovviamente qua non sono stati fatti vedere, che può darsi rendano la storia più profonda, più coinvolgente. Non voglio dire che non sarà così, ovviamente io penso che lo guarderò, non penso che lo guarderò al cinema, sinceramente, non mi ha comunicato niente che mi spinga ad andarlo addirittura a vedere al cinema, quindi non lo guarderò al cinema, lo guarderò quando probabilmente lo metteranno su Disney+, sempre se ci sarò ancora abbonata, perché pure questo è da vedere. E quindi, boh, sono un po' delusa, sinceramente. Mi aspettavo molto di più, mi aspettavo più coinvolgimento, come sempre, ragazzi. Comunque i trailer, questo dovrebbero fare, no? I trailer li pensano apposta, ci stanno quelli che si dedicano solo allo studio del montaggio dei trailer, che fanno solo quello, proprio perché, regà, il trailer deve essere una cosa che è fatta in modo tale che colpisca, no? Pum! Cioè, proprio, pam, ti deve colpì così. Ci stanno film, regà, fanno cagà, che c'hanno trailer spettacolari. Cioè, tu guardi il trailer, dici, oddio, che filmone, poi te vai a vedere il film ed è una cagata assurda. Quindi, qua manca il trailer, ma mi ha colpito, mi ha entusiasmato. Non so che dire, regà, veramente, sono interditta, sono perplessa da varie cose, da varie cose. e quindi, come sempre, ragazzi, aspetto i vostri parelli qua sotto in commenti e voglio sapere assolutamente a voi cosa ne è sembrato. Se questo trailer, invece, al contrario mio, vi ha emozionato, vi ha coinvolti, vi ha entusiasmato, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, se andrete a vedere la cinema, non l'andrete a vedere, se va deluso, se va entusiasmato, insomma, ragazzi, le solite cose. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, e abdoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!